Sunset Overdrive è il nuovo action game di Insomniac, distinto fin da subito per il suo stile esagerato, che contamina non solo il colpo d'occhio ma anche le dinamiche di gioco. In uscita il prossimo 31 ottobre in esclusiva per Xbox One, il titolo si è mostrato in forma definitiva nel corso di un recente evento. Ecco le nostre impressioni. L'incipite delle vicende mette subito inchiara quale sia il carattere di Sunset Overdrive. Esagerato, esplosivo e chiassoso. Se non bastassero i colori acidissimi sparati in faccia al giocatore, a delineare una volta per tutte lo spirito del titolo Insomniac e ci pensano i toni surreali del racconto. Tutto è spinto all'estremo in Sunset Overdrive. Persino il plot scheletrico è asciutto, che ci racconta del diffondersi di una strana epidemia legata alle bibite energetiche della Fitzco e poi ci infila in una sorta di ambientazione post-apocalittica ma sgargiante. L'idea che ci siamo fatti, in verità, è che il racconto non sia proprio fondamentale in Sunset Overdrive. Il gioco ci presenta i suoi strambi NPC e poi ci lascia liberi di girellare per la città per scoprire tutte le possibilità del gameplay. Passando alle dinamiche di gioco, Sunset Overdrive ha preso in prestito un termine molto caro agli skater e l'ha trasformato in una meccanica di gameplay. Il nostro alter ego è infatti in grado di agganciarsi a qualunque corrimano, recinzione, cornicione ed effettuare un grinding proprio come si farebbe con uno skateboard. Nel gioco di Insomniac questa meccanica diventa letteralmente vitale, non solo perché permette di mantenerci in movimento evitando gli assalti degli avversari, ma anche perché spappolare cervelli mentre si scivola sui fili elettrici fa salire la barra dello stile, che riempiendo si sblocca progressivamente gli AMP. Questi non sono altro che dei perk che possiamo assegnare alle nostre azioni. Così l'attacco corpo a corpo può diventare elettrico, la capriola per schivare gli avversari si trasforma in una mossa incendiaria e persino il solo atto di rimbalzare sugli oggetti acquista degli effetti speciali. L'idea è interessante e ben sviluppata, peccato però per un sistema di controllo non certo immediatissimo e per una serie di animazioni che spesso si legano male tra loro, rendendo spinosa l'interazione con l'ambiente di gioco. Un altro problema che Sunset Overdrive potrebbe avere è legato alla qualità della campagna principale. A giudicare dalle dimensioni della città e dalle trovate delle prime quest, il titolo Insomniac potrebbe avere una campagna fin troppo leggera e chissà quanto duratura. L'idea che ci siamo fatti è che il gioco voglia proporre un divertimento molto disimpegnato, puntando quasi tutto sulla componente free roaming. Una struttura del genere lascia di fatto molta libertà al giocatore, ma rischia di avere lo stesso punto debole di Dead Rising 3, che sulla lunga distanza si è rivelato un po' troppo vuoto e con poca sostanza. Dal punto di vista grafico, Sunset Overdrive ci ha invece convinto su tutta la linea. Supportato da un design personalissimo e straripante idee folli e originali, il lavoro svolto sul fronte tecnico ci è soddisfatto appieno. Sunset Overdrive è costante esplosione di colore, azione che non permette mai di respirare e grafica mozzafiato che rende tutto più divertente. L'impressione è però che il titolo Insomniac non abbia troppo da offrire in termini di contenuti, e la speranza è quindi che il plot, così come la varietà delle missioni, subiscano una sincera impennata. Sarebbe opportuno per valorizzare le qualità di un gameplay vibrante, originale e ben pensato. Restiamo quindi in attesa di scoprire le ultime carte di questa esclusiva Xbox One.